Fino al 15 settembre l'Ital Service Pesaro, campione d'Italia in carica di calcio a 5, non potrà usufruire del Palanino Pizza per la sua preparazione precampionato. Una pre-season in cui il futsal pesarese traslocherà fra la trave di Fano e Rimini, probabilmente all'RDS Stadium. Un trasloco che non è andato giù al presidente Lorenzo Pizza, che ha espresso il malessere di una situazione che si ripete negli anni col comune di Pesaro. Un botte risposte in merito al ritardo di lavori alla struttura, al quale gli assessori Enzo Belloni e Mila Della Dora hanno replicato ricordando di aver concordato con l'Ital Service lo slittamento dei lavori da giugno a luglio per consentire la discuta delle finali Scudetto. Finali che poi furono pesantemente viziate da un clamoroso blackout. Il comune ha ribadito l'investimento di 140 mila euro per l'adeguamento di illuminazione e prove di carico nel padiglione D di Campanara, ma altrettanto sollecitato una più corretta collaborazione fra le parti. Allo stesso modo Pizza sottolinea una richiesta di attenzione più consona a ciò che sta rappresentando l'Ital Service per lo sport pesarese. A noi più che altro dispiace il fatto che comunque è dal 2016, dall'anno 2016, da quando io sono diventato presidente, ho preso la squadra in Serie 2, diciamo sono cinque anni in cui non c'è stato un anno nel quale siamo riusciti a incominciare la preparazione dal primo di settembre all'interno della nostra struttura, del nostro palazzetto dello sport. E questo è un po' il problema, ci dispiace perché comunque o per un motivo o per un altro non siamo mai riusciti al primo settembre o perché c'era la ginnastica o perché ci sono dei lavori o perché c'è un rimpianto o qualcosa che non funziona. Quello che diciamo noi, questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, per il quinto anno consecutivo una squadra che è campione d'Italia, va in Champions League, cioè è possibile che tutti gli anni, tutti gli anni ci sono problemi in questo palazzetto dello sport? Anche perché poi non dimentichiamoci un'altra cosa, cioè noi siamo di Pesaro, quindi siamo vicini al comune, ci conosciamo tutti, ma noi poi dopo ci dobbiamo rapportare, raffrontare con allenatori che comunque come Fuglio Colini sono allenatori vincenti, vengono da Roma, giocatori, campioni del mondo, insomma loro comunque questo ce lo contestano, il fatto di non poter mai incominciare una preparazione idonea, adeguata e precisa e puntuale nel nostro palazzetto dello sport. Un anno lo facciamo passare, soprassediamo, un altro anno ci mettiamo d'accordo, l'anno dopo uguale, dopo il quinto anno consecutivo, queste cose dobbiamo dirle anche perché dobbiamo far forza su questa squadra perché comunque è l'unica squadra vincente che è Pesaro, che continua a portare gli scudetti, è l'unica squadra che porta il nome di Pesaro in Europa, non mi sembra corretta, non mi sembra giusto non poter iniziare la preparazione nella nostra struttura.